Oggi ti preparo i biscotti da inzuppo con semola rimaginata, dei biscotti dal sapore rustico e antico. Dai, preparali insieme a me. In una ciotola versa la farina di semola, l'amido di mais, l'ammoniaca per dolci, il sale e lo zucchero. Dai una veloce mescolata, quindi unisci l'olio di semi di girasole, il latte e la fialetta di aroma vaniglia. Continua a mescolare e in ultimo unisci le uova. Impasta bene il tutto. Prima con un cucchiaio, successivamente utilizza le mani fino a formare un panetto liscio, compatto e omogeneo che lascerai riposare in ciotola a temperatura ambiente per circa 15 minuti. Ora forma i biscotti aiutandoti con un cucchiaio. Preleva porzioni di impasto e forma una polpetta fra le mani. Schiacciala leggermente e passala nello zucchero semolato. Sistema i biscotti su una teglia foderata di carta forno e cuoci l'inforno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. E tadan! Ecco pronti i biscotti da inzuppo con semola rimmaginata. Guarda quanto sono golosi! Ti sono piaciuti? Lasciami un commento!